Nuovo capitolo della vicenda relativa alla gara degli aghi al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. Sono arrivati dieci giorni di sospensione da lavoro al primario Vincenzo Maria Riboni. Il dirigente medico è stato sanzionato dal servizio affari legali dell'Ulsa 6 al termine di un procedimento disciplinare interno perché sul verbale in cui denunciava il comportamento dei medici e degli infermieri che erano finiti sotto inchiesta sono presenti stando a quanto ha verificato l'azienda affermazioni che non corrispondono al vero. Il primario tramite il suo avvocato annuncia battaglia giudiziaria. Il provvedimento è stato già impugnato in procura. Per il sindacato degli infermieri il nursing la sanzione conferma la tesi secondo cui la gara non ci sarebbe mai stata e la vicenda trarrebbe origine da un verbale falsificato. Il procedimento disciplinare su sei infermieri e due medici concluso con sei archiviazioni e due richiami per uso improprio del telefonino aziendale era partito dopo la denuncia su una presunta chat su whatsapp in cui il personale faceva gara chi infilava gli aghi o le canule più grosse ai pazienti. Ora la procura dovrà stabilire come sono andate esattamente le cose in maniera definitiva.